Giunge al termine il progetto La Cultura dell'Elegalità, promosso dalla Compagnia dei Carabinieri di Vittoria con le scuole medie, superiori e inferiori nonché elementari della giurisdizione di competenza. L'ultimo incontro si è svolto ieri con una rappresentanza della Scuola Media Pirandello di Comiso. Nel corso del progetto, iniziato il 5 febbraio scorso, con l'incontro presso l'Istituto Comprensivo Volta di Acate, il comandante della Compagnia ha incontrato oltre 500 alunni degli altri istituti di Vittoria scogliti come Isioacate per un totale di 8 conferenze. L'obiettivo principale degli incontri è stato quello di sviluppare, fin dai primi anni dell'adolescenza, una cultura della legalità, illustrando ai ragazzi il significato della legge e le conseguenze per chi non la rispetta, nonché dell'organizzazione dell'apparato pubblico deputato a garantire il rispetto in modo da consentire loro di iniziare a prendere coscienza e confidenza con le istituzioni e, nello specifico, con il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal carabiniere. Nel corso degli incontri sono stati trattati temi come il bullismo, i danni causati dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcol, l'importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, nonché altre tematiche di attualità, quali i rischi di internet e nello specifico Facebook. L'ARME ha inoltre dato la possibilità alle scuole che hanno partecipato al progetto di effettuare delle visite guidate presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Via Garibaldi, mostrando così ai ragazzi locali dove si svolge la quotidiana attività dei carabinieri, nonché illustrare le dinamiche di funzionamento del pronto intervento, ovvero come viene gestita una chiamata al 112 da parte di un cittadino in difficoltà, nonché dell'apparato di prevenzione e repressione. In totale le visite sono state secco alla partecipazione di 180 alunni.